Sono cominciati di buon mattino i lavori presso la tribuna Terminio dello stadio Partenio Lombardi, settore che ieri pomeriggio è stato interamente sequestrato dagli uomini della squadra mobile su disposizione della Procura della Repubblica. Un provvedimento eseguito d'urgenza a tutela della pubblica incolumità, in questo caso dei tifosi che assistono alle partite da questo settore. Stamani allo stadio si è recato anche l'assessore comunale Preziosi con altri tecnici del Comune, mentre una ditta incaricata dalla società ha avviato i lavori di spicconatura, un intervento di messa in sicurezza per consentire, questo almeno è l'obiettivo dell'US Avellino, il dissequestro della tribuna per la partita di sabato. Ma comunque al di là dei lavori, ultimati i quali sarà necessario un sopralluogo anche da parte dei tecnici della Procura, il filone d'indagine riguarda verifiche tecniche sui lavori eseguiti in questi anni e quindi anche sulle cause del distacco di pezzi di cemento dall'anello superiore della Terminio. Gli inquirenti, che ad agosto hanno sequestrato documenti presso il Comune, hanno focalizzato l'attenzione in questa fase delle indagini sull'anno 2013, convenzione, lavori eseguiti, appalti che vengono attenzionati per chiarire probabilmente il rapporto economico tra Comune e società bianco-verde. Il 2013 è l'anno dell'ormai famosa delibera. Durante la ricognizione allo stadio fatta martedì mattina, il CTU di Benavento, incaricato dalla Procura, ha rimenuto diversi pezzi di cemento, grandi tra i 10 e i 20 centimetri, ed ha rilevato una serie di aspetti tecnici non conformi che hanno determinato il pericolo di pubblica e incolumità, di cui il provvedimento d'urgenza è quindi il sequestro della tribuna. Ma non si esclude la possibilità che nelle prossime ore vengano emessi ulteriori provvedimenti a carico di eventuali irresponsabili.